Paolo, allora come ci si prepara una competizione così impegnativa? Immagino che anche mentalmente ci sia un lavoro importante da fare. Sì, ci sia un lavoro importante mentalmente perché la mente è quella che sopporta tutto. Poi chiaramente bisogna avere delle predisposizioni fisiche perché bisogna sapere affrontare anche i vari punti negativi che ci sono durante una gara di questo genere. Non so, dolori muscolari oppure visciche, dolori tendini, queste cose qua. Al di là dei chilometri che sono veramente tanti, quali sono le difficoltà di questa gara? Uno dice 490 chilometri e basta, tanti mi dicono, io non faccio fatica a fare neanche 100 con la macchina. C'è la famosa Spartaton che è famosissima dove tutti ambiscono a parteciparvi e dove è difficile anche essere iscritti perché ci vogliono dei tempi particolari, quei pochi che rimangono fuori possono solo sperare di essere sorteggiati. E già che finisce quella che è solo l'andata, arrivare diciamo a Sparta dove c'è poi la consacrazione baciando i piedi della famosa statua di Leonida che è quel famoso guerriero greco. Due anni fa un'altra organizzazione sempre greca ha deciso di fare questa famosa fidibides che è tornare indietro e quindi pensare di essere là, quando arrivi là uno dice ha finito la Spartan invece tu devi solo pensare, di baciare e tornare indietro, non è semplice insomma. La tua è una sfida nella sfida perché tu parti con un handicap fisico per un infortunio quindi oltre a riuscire a portarla a termine devi vincere anche contro te stesso. Purtroppo ho avuto un grave infortunio al tendine d'Achille, mi sono operato il 7 di settembre e da lì tra l'altro i medici che mi operarono mi sconsigliarono di ricominciare a fare gare di lunga durata. L'unico end è che io sono preparatissimo, sono preparatissimo dal punto di vista mentale perché lo sono di natura dal punto di vista fisico, perché mi sono allenato bene ho curato l'alimentazione per cercare di portare meno chili possibile dietro appunto per questo discorso del tendine però il tendine è un punto interrogativo. Io il massimo che ho fatto di allenamento sono 50-60 km ne devo fare tanti altri quindi non lo so, speriamo che regga.